Dialogo 1 Le nostre passioni attuali. In questa conversazione, Luca e Sara parlano dei loro hobby attuali, delle attività che amano fare nel loro tempo libero. Condividono le loro passioni e discutono delle ragioni per cui trovano queste attività così piacevoli e gratificanti. Ciao, Sara, come stai? Mi piacerebbe sapere quali sono le tue passioni, e i tuoi hobby attuali. Cosa ti piace fare nel tuo tempo libero? Ciao, Luca, sto bene. Grazie. Mi piace molto dipingere. Trovo che sia una forma di espressione creativa che mi permette di rilassarmi e di dare sfogo alla mia fantasia. E tu? Quali sono le tue attività preferite al momento? Anch'io ho scoperto una nuova passione recentemente. Mi piace molto fare fotografia. Mi diverto a catturare momenti speciali e a immortalare paesaggi interessanti. È una bella sfida cercare di catturare la bellezza del mondo attraverso le immagini. C'è un'altra attività che ti appassiona? Sì. Luca, oltre alla pittura, mi piace anche fare lunghe passeggiate all'aria aperta. Trovo che camminare nella natura mi aiuti a svuotare la mente e a sentirmi più in contatto con me stessa. Mi piace osservare gli alberi, gli animali e godermi la tranquillità che si respira. Hai qualche altra passione? Sì, Sara, oltre alla fotografia, mi piace molto leggere libri. Mi piace lasciarmi trasportare in mondi fantastici, scoprire nuove storie e imparare nuove cose attraverso la lettura. È un modo fantastico per rilassarmi e imparare allo stesso tempo. C'è un'altra attività che ti coinvolge? Assolutamente. Luca, amo anche cucinare. Mi diverte sperimentare nuove ricette e preparare piatti deliziosi per me e per le persone a cui tengo. Mi piace la creatività che si sprigiona in cucina e la soddisfazione di gustare qualcosa di fatto con le proprie mani. E tu? C'è un'altra passione che desideri condividere? Sì, Sara, oltre alla fotografia e alla lettura, mi piace suonare la chitarra. Mi piace improvvisare melodie e creare la mia musica. È un modo per rilassarmi e per esprimere la mia creatività attraverso il suono. Mi dà un senso di realizzazione personale. Quale aspetto delle tue attività attuali ti rende più felice? Quello che mi rende più felice nel dipingere è la sensazione di libertà che provo. Posso creare qualsiasi cosa mi venga in mente e posso esprimermi senza limiti. È un momento in cui mi sento veramente me stessa. Mi piace anche regalare le mie opere alle persone care. Mi fa felice vedere la gioia che provano quando ricevono un pezzo unico fatto da me. È fantastico, Sara. Trovare attività che ci danno gioia e soddisfazione è davvero importante. Mi fa piacere che entrambi abbiamo scoperto passioni che ci permettono di esprimerci e di dedicare il nostro tempo a qualcosa di significativo. Per favore metti mi piace e iscriviti al canale. Ci aiuta davvero molto. Grazie. Dialogo 2 Navigare le differenze culturali nelle relazioni. Sofia e Marco discutono dei consigli per affrontare le differenze culturali nelle relazioni. Condividono esperienze personali e suggerimenti su come sviluppare una maggiore comprensione reciproca. Ciao Marco. Oggi vorrei parlarti di come affrontare le differenze culturali nelle relazioni. Ho notato che in una coppia multiculturale possono sorgere sfide uniche. Hai qualche esperienza personale in merito? Ciao Sofia. Assolutamente. Sono stato coinvolto in una relazione multiculturale per diversi anni, e ho imparato molto lungo il percorso. Una delle prime cose che ho imparato è l'importanza della comunicazione aperta e del dialogo sincero. Sì. Sono d'accordo. La comunicazione è fondamentale per comprendere le differenze culturali e trovare un terreno comune. Cosa consiglieresti a qualcuno che sta iniziando una relazione con qualcuno di una cultura diversa? Penso che sia importante avere una mente aperta, essere disposti ad apprendere dalla cultura dell'altro. Chiedere e condividere informazioni sulla cultura del proprio partner, può aiutare a creare una maggiore comprensione reciproca. Assolutamente. È anche importante rispettare le tradizioni e le usanze dell'altro. Anche se possono sembrare diverse dalle proprie. Questo può aiutare a creare un ambiente di rispetto reciproco. Hai ragione, Sofia. Rispettare le differenze culturali è fondamentale per evitare fraintendimenti o conflitti. Inoltre, credo che sia utile fare esperienze culturali insieme, come provare cibi tradizionali, o partecipare a eventi culturali. Sì. Condividere esperienze culturali può essere divertente e rafforzare il legame nella coppia. Allo stesso tempo, è importante avere pazienza e comprensione quando si affrontano situazioni in cui le abitudini o le aspettative culturali possono essere diverse. Hai ragione, Sofia. Ho imparato che il rispetto reciproco e la volontà di imparare l'uno dall'altro, possono aiutare a superare le differenze culturali. È anche importante non giudicare o generalizzare in base alla cultura di appartenenza. Sono d'accordo. Ogni individuo è unico e ha le proprie esperienze e prospettive. È importante evitare stereotipi e cercare di capire il punto di vista dell'altro. Esattamente. Alla fine, la chiave è costruire una relazione basata sul rispetto, sulla fiducia e sull'apertura mentale. Le differenze culturali possono arricchire la relazione, se affrontate con curiosità e comprensione. Concordo pienamente. Marco, sono felice che siamo in grado di condividere queste esperienze e consigli. Nella parte successiva della nostra conversazione, potremmo approfondire ulteriormente il tema e parlare di come affrontare le differenze nelle tradizioni familiari. Sì, sarebbe interessante. Non vedo l'ora di continuare la nostra conversazione. Ci sentiamo presto. Ciao Marco. Come promesso. Oggi parleremo delle differenze nelle tradizioni familiari. Hai qualche esperienza personale che vuoi condividere? Certo, Sofia. Quando ho iniziato a frequentare una persona di un'altra cultura, mi sono reso conto che le tradizioni familiari possono essere molto diverse dalle mie. Inizialmente, ho avuto qualche difficoltà ad adattarmi. Capisco. Anch'io ho avuto esperienze simili. Penso che sia importante avere una mente aperta e cercare di comprendere il significato e l'importanza delle tradizioni familiari del partner. Esattamente. Ho imparato che rispettare le tradizioni familiari dell'altro, può contribuire a creare un senso di appartenenza e a rafforzare il legame nella coppia. Anche il coinvolgimento reciproco nelle rispettive tradizioni, può essere un modo per mostrare interesse e rispetto. Sono d'accordo. Ho trovato utile chiedere al mio partner di spiegarmi le sue tradizioni familiari e partecipare attivamente a eventi o celebrazioni importanti per lui. Questo ha creato un senso di condivisione e di connessione più profonda. È fantastico che tu abbia avuto questa esperienza, Sofia. Penso che la flessibilità sia un'altra componente importante quando si affrontano le differenze nelle tradizioni familiari. Talvolta potrebbero essere necessari compromessi o adattamenti, per trovare un equilibrio tra le diverse pratiche. Assolutamente. È un processo di apprendimento reciproco e di crescita personale. Anche la comunicazione aperta è fondamentale per affrontare le differenze nelle tradizioni familiari. Parlarne apertamente. Esprimere i propri sentimenti e ascoltare attentamente l'altro può aiutare a superare eventuali malintesi o conflitti. Hai ragione, Sofia. È importante mantenere una comunicazione costante e sincera. Inoltre, credo che l'empatia sia un elemento chiave per comprendere il significato e l'importanza delle tradizioni familiari dell'altro. Concordo pienamente. L'empatia ci permette di metterci nei panni dell'altro e di comprendere le sue esperienze e prospettive. Questo può contribuire a creare un clima di comprensione e accettazione reciproca. Esatto. Ogni cultura ha le proprie tradizioni e valori. E attraverso l'accettazione e l'apprezzamento reciproco, possiamo imparare molto l'uno dall'altro. Assolutamente. Affrontare le differenze culturali e familiari richiede tempo, pazienza e impegno da entrambe le parti. Ma quando si riesce a creare un ambiente di rispetto e comprensione reciproca, le differenze possono arricchire la relazione e renderla più significativa. Sono d'accordo, Sofia. Le differenze culturali possono essere una grande opportunità di crescita personale e relazionale. Grazie per aver condiviso queste idee. Non vedo l'ora di continuare la nostra conversazione la prossima volta. Grazie a te, Marco. Sarà interessante esplorare ulteriormente questo tema. A presto. Ciao Marco. Siamo giunti all'ultima parte della nostra conversazione sulle differenze culturali. Oggi voglio parlare dell'importanza della curiosità reciproca. Cosa ne pensi? Ciao Sofia, sono d'accordo. La curiosità è fondamentale per imparare e scoprire di più sulla cultura del nostro partner. Mi piace fare domande e ascoltare le sue storie, tradizioni e esperienze personali. È un modo per approfondire la nostra comprensione reciproca. Esattamente. Marco, quando siamo curiosi l'uno dell'altro, dimostriamo interesse e apertura verso le nostre differenze culturali. Questo ci aiuta a superare gli stereotipi e a conoscerci meglio come individui unici. Assolutamente. La ricerca di punti di connessione tra le nostre culture, è un altro aspetto importante. Trovare interessi comuni, passioni condivise o anche piccole somiglianze, può creare legami più forti e rafforzare la relazione. Sì. Marco, quando scopriamo che condividiamo una passione per la stessa musica, cucina o attività, possiamo celebrare queste affinità culturali insieme. È un modo per valorizzare e celebrare la diversità nella nostra relazione. Esattamente. Penso anche che sia importante essere aperti al confronto e al dialogo sulla cultura e sulle differenze. Questo ci consente di imparare l'uno dall'altro e di crescere come individui e come coppia. Sono d'accordo. Marco, accettare che ci saranno momenti di sfida e confronto è parte integrante dell'affrontare le differenze culturali. È importante ricordare che siamo alleati e che stiamo cercando di comprendere e supportare l'altro. Esattamente, Sofia. È un percorso di apprendimento continuo. Possiamo sperimentare nuove tradizioni, esplorare insieme la cultura dell'altro e adattare le nostre prospettive in modo più ampio. Assolutamente. Marco, quando siamo disposti a metterci in discussione e ad abbracciare nuove prospettive, ci arricchiamo reciprocamente. Questo ci permette di crescere sia individualmente che come coppia. Sì, Sofia. E credo che la flessibilità e la comprensione siano chiavi per affrontare le differenze culturali. Essere disposti ad adattarsi, a modificare alcune abitudini o a fare compromessi, può creare un ambiente di rispetto reciproco. Assolutamente. Marco, navigare le differenze culturali richiede impegno e comprensione da entrambe le parti. Ma quando siamo aperti, curiosi e disposti a imparare, possiamo costruire una relazione più forte e significativa. Sono completamente d'accordo, Sofia. Grazie per questa conversazione stimolante. Spero che possiamo continuare a crescere insieme, celebrando la nostra diversità. Grazie a te, Marco. È stato un piacere discutere di queste tematiche importanti con te. Sono sicura che la nostra apertura e comprensione reciproca ci porteranno lontano. Per favore metti mi piace e iscriviti al canale. Ci aiuta davvero molto. Grazie. Dialogo 3 Quadri e arte. In questa conversazione, Andrea e Laura parlano di quadri e arte. Condividono le loro opinioni su diversi stili artistici, discutono dell'importanza dell'arte nella società e dell'impatto emotivo dei quadri. Ciao, Laura. Ti piace l'arte e i quadri? Ciao, Andrea. Sì. Amo l'arte e ammiro i quadri. Mi piace scoprire nuovi artisti e apprezzare le diverse espressioni artistiche. E a te, piace l'arte? Assolutamente. Mi affascina l'arte e la creatività che gli artisti mettono nei loro quadri. Mi piace anche visitare musei e gallerie d'arte per ammirare le opere dei grandi maestri. Hai uno stile artistico preferito? È difficile scegliere solo uno. Ma se dovessi fare una scelta, direi l'impressionismo. Mi piace l'uso dei colori vivaci e la rappresentazione degli effetti di luce. I quadri impressionisti hanno una sensazione di movimento e catturano l'atmosfera del momento. E tu? Quale stile preferisci? Mi piace molto il surrealismo. Trovo affascinante come gli artisti surrealisti riescano a trasformare la realtà in immagini oniriche e suggestive. Mi piace l'elemento di sorpresa e l'interpretazione simbolica che spesso si trova nei quadri surrealisti. Cosa pensi dell'importanza dell'arte nella società? Penso che l'arte abbia un ruolo fondamentale nella società. Oltre a essere un modo di esprimere la creatività. L'arte ci permette di riflettere sulla nostra realtà e sulle emozioni umane. Attraverso i quadri, gli artisti possono trasmettere messaggi sociali, politici o semplicemente emozionali. Cosa ne pensi? Sono d'accordo. L'arte ha il potere di ispirare, suscitare emozioni e farci riflettere. Può spingerci a vedere il mondo da prospettive diverse e stimolare la nostra immaginazione. Penso che sia importante sostenere gli artisti e promuovere l'arte nella società. Hai mai provato a dipingere o creare qualcosa di artistico? Sì. Mi piace dedicarmi a piccoli progetti artistici. Ho provato la pittura ad acquerello e mi piace creare collage con materiali diversi. Anche se non sono un artista professionista, mi piace esprimere la mia creatività attraverso queste attività. Cosa ti suscitano i quadri quando li osservi? I quadri mi suscitano diverse emozioni. Alcuni possono farmi sentire sereno, altri mi possono far riflettere o suscitare meraviglia. Mi piace osservare i dettagli e cercare di cogliere il messaggio o l'intento dell'artista. I quadri possono trasmettere un senso di bellezza e di connessione con l'artista stesso. Per favore metti mi piace e iscriviti al canale. Ci aiuta davvero molto. Grazie. Dialogo 4 Avventure all'aria aperta. Marco e Sofia parlano delle loro esperienze all'aria aperta e condividono le emozioni e le avventure che hanno vissuto. Ciao Sofia. Come stai? Che cosa hai fatto di interessante ultimamente? Ciao Marco. Sto bene. Sai. Ho avuto un'esperienza fantastica durante il weekend. Sono andata in escursione in montagna con alcuni amici. Wow. Sembra fantastico. Mi piace molto l'aria aperta e le avventure all'aperto. Com'è stata l'escursione? È stata incredibile. Abbiamo camminato per diversi chilometri lungo i sentieri della montagna. Ammirando paesaggi mozzafiato e respirando aria fresca. Deve essere stata un'esperienza rigenerante. Quanto tempo hai camminato? Abbiamo camminato per circa tre ore. Ci siamo concessi alcune pause lungo il percorso per ammirare la natura e scattare delle foto. Suona davvero rilassante. Qual è stata la cosa più emozionante che hai visto durante l'escursione? Durante il percorso siamo arrivati a una cascata stupenda. L'acqua scendeva con forza e il rumore era meraviglioso. È stata un'esperienza magica. Che fortuna. Le cascate sono sempre affascinanti. Mi piacerebbe visitarne una anche io. Dovresti farlo. È davvero speciale essere immersi nella natura e scoprire posti meravigliosi come le cascate. Hai ragione. Mi piace molto passare del tempo all'aperto. Mi ricarica e mi fa sentire in pace con me stesso. Sono completamente d'accordo. L'aria aperta ha un effetto positivo sulla mente e sul corpo. È un modo perfetto per staccare dalla routine quotidiana. Hai altre avventure all'aperto che hai in programma? Sì. Sto pensando di fare un'escursione in bicicletta lungo un percorso panoramico nei prossimi giorni. Mi piace l'idea di pedalare e godermi il paesaggio circostante. Sembra divertente. Io adoro andare in bicicletta. È un modo fantastico per esplorare nuovi luoghi e tenersi in forma. Esattamente. Marco. È un modo divertente ed energizzante per godere della natura e fare un po' di attività fisica. Mi piacerebbe unirmi a te per un'escursione in bicicletta un giorno. Sarebbe un'ottima occasione per trascorrere del tempo all'aperto insieme. Sarebbe fantastico. Ci divertiremo sicuramente. Possiamo pianificarlo per la prossima settimana. Ottimo. Non vedo l'ora. Sono sicuro che sarà un'esperienza indimenticabile. Sono così entusiasta per la nostra futura escursione in bicicletta. Marco. Sono sicura che sarà divertente esplorare nuovi percorsi insieme. Anch'io non vedo l'ora. Hai qualche suggerimento su quale percorso potremmo fare? Ho sentito parlare di un sentiero ciclabile lungo il fiume che offre bellissimi panorami. potremmo seguire quel percorso. Sembra perfetto. Mi piace l'idea di ammirare il fiume mentre pedaliamo. È rilassante e stimolante allo stesso tempo. Esattamente. E se abbiamo bisogno di una pausa lungo il percorso, possiamo fare una sosta per un picnic e gustarci un po' di cibo all'aperto. Mi piace molto l'idea del picnic. Possiamo preparare panini e portare delle bevande fresche. Sarà un momento piacevole per rilassarci e rifocillarci. Ottima idea. Possiamo anche portare una palla da calcio o una racchetta da badminton per divertirci un po' durante la pausa. Mi piace il tuo entusiasmo per le attività all'aperto. Hai altre avventure in mente oltre all'escursione in bicicletta? Sì. Vorrei provare l'arrampicata su roccia. Ho sempre trovato affascinante sfidare me stessa e superare ostacoli fisici. Wow! L'arrampicata su roccia è un'avventura emozionante. Mi ha ispirato a provare anche io. Conosci qualche posto dove potremmo praticarla? C'è un'area di arrampicata vicino alla montagna dove siamo andati in escursione. Potremmo organizzare una giornata lì e imparare le basi dell'arrampicata. Mi piace l'idea. Sarà una sfida eccitante e un modo per superare le nostre paure. Non vedo l'ora di provarlo. Sono sicura che ce la faremo. È importante avere fiducia in se stessi e affrontare le sfide con coraggio. Hai ragione. Le avventure all'aperto ci insegnano molte lezioni preziose sulla fiducia, la perseveranza e il superamento dei limiti. Esattamente. È bello sapere che possiamo creare ricordi indimenticabili e imparare nuove cose mentre ci godiamo la natura. Mi sento ispirato dalle tue parole, Sofia. Grazie per condividere le tue avventure e i tuoi sogni all'aria aperta con me. È un piacere condividere queste esperienze con te. Marco. Siamo fortunati ad avere l'opportunità di esplorare il mondo intorno a noi. Sono davvero emozionato per le avventure che abbiamo pianificato, Sofia. Abbiamo parlato di escursioni, bicicletta e arrampicata su roccia. Ma ci sono altre attività che ti piacerebbe fare? Assolutamente. Marco. Una delle cose che desidero fare è fare una gita in kayak. Mi piacerebbe esplorare i laghi o i fiumi vicino a noi e godermi la tranquillità dell'acqua. Che bella idea. Il kayak è un modo meraviglioso per entrare in contatto con la natura e sperimentare la sensazione di libertà sull'acqua. Possiamo affittare i kayak o partecipare a un'escursione guidata. Esatto. Marco. Non vedo l'ora di remare sul lago e ammirare il paesaggio circostante. Sarebbe un'esperienza rilassante e rigenerante. Concordo pienamente. Penso che l'outdo ci offra tante opportunità per staccare la spina dallo stress quotidiano e ritrovare la pace interiore. Hai ragione. Marco. E penso che sia importante dedicare del tempo alla natura per rigenerare mente e corpo. Ci aiuta a mantenere l'equilibrio nella vita frenetica di tutti i giorni. Assolutamente. E le attività all'aperto ci offrono anche l'opportunità di stare insieme e creare legami più forti. Esattamente. Mi ricordo di quando abbiamo fatto una passeggiata in montagna con i nostri amici lo scorso anno. È stata un'esperienza meravigliosa per tutti noi. Ci siamo sostenuti l'un l'altro e abbiamo condiviso tanti momenti speciali. Sì. Quelle sono le esperienze che rimangono nel cuore. Mi piace l'idea di organizzare un'altra escursione con gli amici. Possiamo cercare un percorso panoramico e portare qualche snack per goderci una pausa durante il viaggio. Mi piace molto l'idea. Condividere queste avventure con gli amici renderà l'esperienza ancora più divertente e significativa. Hai qualche altra attività all'aperto che vorresti fare? Mi piacerebbe provare il campeggio. Sogno di trascorrere una notte sotto le stelle. Accanto a un falò e condividere storie risate con gli amici. Oh, sì, il campeggio è un'esperienza magica. Possiamo imparare a montare una tenda e organizzare una serata di campeggio in un bel posto immerso nella natura. Sembra fantastico. Marco, non vedo l'ora di vivere queste avventure all'aria aperta insieme a te e agli amici. Io neanche. Sofia. Sono grato di avere qualcuno con cui condividere la passione per l'avventura e la natura. Siamo fortunati ad avere queste opportunità. Sì. Siamo davvero fortunati. E sono grata di averti al mio fianco in queste avventure. Siamo un grande team. Assolutamente. Sofia. Siamo un team vincente. Non vedo l'ora di creare ricordi indimenticabili insieme. Per favore metti mi piace e iscriviti al canale. Ci aiuta davvero molto. Grazie. Dialogo 5 Un'avventura in viaggio. In questa conversazione, Marco e Chiara raccontano le loro esperienze di viaggio più memorabili e condividono aneddoti divertenti legati ai loro road trip. Discutono delle destinazioni preferite, dei momenti indimenticabili e delle sfide affrontate lungo il percorso. Ciao Chiara. Sono così felice di parlare dei nostri viaggi. Hai mai avuto un road trip indimenticabile? Ciao Marco. Sì. Ho avuto un'esperienza incredibile in un road trip attraverso la Toscana. Ho visitato città meravigliose come Firenze, Siena e Pisa. Wow. Sembra un viaggio fantastico. Qual è stato il momento più memorabile di quel viaggio? Il momento più memorabile è stato quando ho visto la torre di Pisa per la prima volta. È stato incredibile vedere quell'iconica torre inclinata dal vivo. Deve essere stato davvero emozionante. Io, invece, ho avuto un'esperienza indimenticabile in un viaggio sulla costa amalfitana. Le viste panoramiche e i pittoreschi villaggi mi hanno lasciato senza parole. La costa amalfitana è uno dei posti più belli d'Italia. Qual è stato il tuo momento preferito durante quel viaggio? Il mio momento preferito è stato guidare lungo la strada costiera e fare una sosta a Positano. Le case colorate e la vista sul mare erano spettacolari. Sono d'accordo. Positano è un sogno. Parlando di viaggi, hai mai avuto delle sfide durante un road trip? Sì. Durante un viaggio in montagna abbiamo avuto un piccolo inconveniente con la macchina. Abbiamo dovuto fermarci e chiamare l'assistenza stradale, ma alla fine siamo riusciti a ripartire. È un peccato che sia successo. Ma fa parte dell'avventura dei road trip. Io ricordo un viaggio in cui abbiamo perso la strada e ci siamo ritrovati in un paesino remoto. È stato un po' spaventoso. Ma alla fine abbiamo fatto delle scoperte interessanti. È vero. A volte i percorsi imprevisti possono portare a scoperte sorprendenti. Mi piace l'idea di essere aperti alle avventure durante i viaggi. Assolutamente. I viaggi sono pieni di sorprese e imprevisti. È proprio quello che li rende così avvincenti. Qual è la tua prossima destinazione di viaggio? Sto pianificando di visitare la Sicilia. Ho sentito parlare delle spiagge mozzafiato e dell'incredibile patrimonio culturale dell'isola. Sembra un'ottima scelta? Non vedo l'ora di sentire le tue storie di viaggio quando tornerai. Ricorda di portarmi un souvenir. Sarà un piacere condividere le mie esperienze di viaggio con te, Chiara. Non vedo l'ora di partire e di vivere un'altra avventura on the road. Buon viaggio. Marco. Divertiti e torna con tante storie da raccontare. Grazie, Chiara. Sarà un'avventura indimenticabile. Ci sentiamo quando torno. Ciao Chiara. Sono contento di poter continuare a parlare dei nostri viaggi. Mi piacerebbe sapere qual è stata la tua destinazione preferita in assoluto. Ciao Marco. È difficile scegliere. Ma se devo nominarne una, direi la Costa Rica. Ho avuto l'opportunità di esplorare la giungla. Fare surf e persino vedere delle scimmie nella loro habitat naturale. Wow. Sembra un'esperienza emozionante. Io sono un amante della natura e ho sempre sognato di fare un viaggio in Nuova Zelanda. Vorrei fare trekking sulle sue montagne e ammirare i suoi paesaggi muzzafiato. La Nuova Zelanda è davvero spettacolare. Ti consiglio di pianificare quel viaggio perché ne vale davvero la pena. Parlando di viaggi, hai mai fatto delle attività divertenti durante un road trip? Sì. Durante un viaggio in Spagna abbiamo partecipato a una festa tradizionale di paese. C'era musica, balli e un sacco di cibo delizioso. È stato un modo divertente per immergermi nella cultura locale. Mi piacerebbe partecipare a una festa tradizionale durante un viaggio. È una fantastica occasione per fare nuove esperienze e conoscere persone interessanti. Hai mai incontrato qualcuno di particolarmente interessante durante un viaggio? Sì. Durante un road trip negli Stati Uniti ho incontrato un gruppo di musicisti di strada che suonavano in una città. Abbiamo iniziato a chiacchierare e hanno finito per suonare una canzone dedicata al nostro viaggio. È stato un incontro spontaneo ma memorabile. Che bell'incontro! È fantastico come i viaggi possano portare a incontri speciali e connessioni uniche. Hai qualche consiglio per pianificare un road trip di successo? Assolutamente! Innanzitutto, è importante pianificare il percorso in anticipo, ma essere flessibili per apportare eventuali modifiche lungo il cammino. Inoltre, assicurati di controllare il tuo veicolo prima di partire e di avere una mappa o un navigatore affidabile. Ottimi consigli! Aggiungerei anche di portare con sé un kit di emergenza che includa acqua, cibo e un kit di pronto soccorso. Meglio essere preparati per ogni eventualità. Hai mai avuto delle sfide durante un road trip? Sì. Una volta abbiamo avuto un problema con una gomma sgonfia in piena notte. Fortunatamente avevamo uno pneumatico di scorta e siamo riusciti a cambiarlo da soli. È stata una sfida, ma ci ha insegnato l'importanza della preparazione e della capacità di risolvere i problemi. È vero! Le sfide possono presentarsi lungo il percorso, ma sono anche opportunità per imparare e crescere. Infine, quale sarà la tua prossima avventura in viaggio? Sto pensando di esplorare la Scandinavia. Vorrei visitare paesi come Norvegia e Svezia, immergermi nella loro cultura e ammirare i paesaggi nordici. Sembra un'ottima scelta? Non vedo l'ora di sentire le tue storie di viaggio quando tornerai. Buon viaggio! Marco! Grazie, Chiara. Sarà un'avventura indimenticabile. Ci sentiamo quando torno. Ciao Chiara. Sono tornato dal mio viaggio in Scandinavia ed è stato incredibile. Ho visto fior di spettacolari e ho fatto un'escursione sulla neve. È stata un'esperienza indimenticabile. Sono felice che tu abbia avuto un viaggio meraviglioso. I paesaggi nordici sono davvero mozzafiato. Hai qualche aneddoto da condividere? Certamente. Durante l'escursione sulla neve, abbiamo avuto la fortuna di vedere l'aurora boreale. Era come se il cielo si stesse dipingendo di verde e viola. Non avrei mai immaginato di poter vedere una cosa così incredibile. Wow! Deve essere stato davvero magico. Vorrei tanto poter assistere a un fenomeno naturale così spettacolare. Parlando di viaggi, c'è qualche altro posto che sognavi di visitare? Assolutamente. Sognavo di visitare il Giappone. Mi affascina la sua cultura unica, i templi antichi e la deliziosa cucina giapponese. Vorrei esplorare città come Tokyo e Kyoto. Il Giappone è un posto davvero affascinante. Ho avuto la fortuna di visitarlo qualche anno fa. Ti consiglio di provare il sushi fresco e di fare una passeggiata nei giardini tradizionali. Sono esperienze che ti rimarranno nel cuore. Grazie per i consigli. Non vedo l'ora di poter vivere queste esperienze uniche. Tu hai qualche meta che desideri visitare? Sì. Ho sempre sognato di visitare l'Australia. Mi affascina la sua fauna unica e i paesaggi selvaggi. Vorrei fare un'escursione nella grande barriera corallina e vedere i canguri in libertà. L'Australia è sicuramente una meta affascinante. Sarà un'avventura straordinaria esplorare la sua natura selvaggia. Ricorda di portare la tua macchina fotografica per catturare tutti quei momenti speciali. Assolutamente. Non vedo l'ora di poter fotografare quei luoghi meravigliosi. Ma mentre aspetto di realizzare questo sogno, continuerò a scoprire posti nuovi anche qui in Italia. Hai ragione. Spesso dimentichiamo di apprezzare le bellezze del nostro paese. Ci sono tanti luoghi da visitare e scoprire anche qui, come le città d'arte, le coste e le montagne. Esattamente. Non dobbiamo mai sottovalutare le meraviglie che abbiamo a portata di mano. Ogni luogo ha qualcosa di speciale da offrire. Basta saperlo scoprire. Hai perfettamente ragione, Chiara. Ogni viaggio, grande o piccolo, ci arricchisce e ci insegna qualcosa di nuovo. Non vedo l'ora di vivere nuove avventure e creare ricordi indimenticabili. Sono sicura che ci saranno ancora tante storie da raccontare. Buon viaggio! Marco! E che ogni meta ti porti nuove esperienze straordinarie. Grazie, Chiara! Ti terrò aggiornata sulle mie avventure. A presto! Per favore metti mi piace e iscriviti al canale. Ci aiuta davvero molto. Grazie. Dialogo 6. Collaborazioni da sogno con i brand preferiti. Laura e Marco parlano dei loro sogni di collaborazione con i brand che amano. Discutono delle idee che hanno per una partnership ideale e di come sarebbe entusiasmante lavorare insieme ai loro marchi preferiti. Marco! Sai cosa sarebbe davvero fantastico? Collaborare con il nostro brand preferito e realizzare qualcosa di unico. Hai mai pensato a una collaborazione da sogno? Assolutamente, Laura. Mi piacerebbe tantissimo lavorare con il brand di abbigliamento sportivo che adoro. Immagino una linea di abbigliamento tecnico e alla moda, perfetta per gli amanti dello sport e del fitness come me. Sarebbe un sogno diventato realtà. Sì, sarebbe incredibile, Marco. Anch'io ho una collaborazione da sogno in mente. Amo la cosmesi naturale e biologica, quindi mi piacerebbe creare una linea di prodotti per la cura della pelle in collaborazione con il mio brand preferito. Vorrei che fossero prodotti sostenibili e rispettosi dell'ambiente. Mi piace l'idea, Laura. La cosmesi naturale è davvero importante per la cura della nostra pelle e dell'ambiente. Sarebbe fantastico lavorare insieme a un brand che condivide questi valori e creare una linea di prodotti che sia al tempo stesso efficace e rispettosa dell'ambiente. Esattamente, Marco. La sinergia tra i nostri valori e il brand sarebbe fondamentale per una collaborazione di successo. Immagino dei prodotti di alta qualità che siano anche ecologici, per offrire il meglio ai nostri clienti e all'ambiente. Hai ragione, Laura. La qualità dei prodotti è davvero importante. Mi piacerebbe creare una linea di scarpe sportive innovative, con tecnologie all'avanguardia per garantire comfort e prestazioni ottimali durante l'attività fisica. Sarebbe fantastico vedere le persone indossare le nostre scarpe mentre si allenano. Sì, sarebbe un sogno che si avvera, Marco. Immagino anche una partnership con un brand di accessori per il fitness, come fasce elastiche e pesi. Potremmo creare una collezione completa per aiutare le persone a mantenersi in forma in modo divertente e motivante. Mi piace molto l'idea, Laura. Una collezione completa di accessori per il fitness sarebbe davvero utile per le persone che vogliono prendersi cura del loro benessere. Sarebbe fantastico vedere il nostro marchio preferito impegnato in un progetto così entusiasmante. Sì, Marco. Sarebbe davvero un'esperienza incredibile. Immagino anche eventi e workshop in cui potremmo condividere consigli e suggerimenti per uno stile di vita sano e attivo. Sarebbe un modo fantastico per coinvolgere la comunità e promuovere i nostri valori. Marco. Ci sono così tante possibilità quando si tratta di collaborazioni con i brand preferiti. Mi piacerebbe creare una linea di prodotti per la cura dei capelli in collaborazione con un marchio di prodotti naturali. Immagino prodotti per la cura dei capelli a base di ingredienti biologici e nutrienti. Sì, Laura. L'industria dei prodotti per la cura dei capelli offre molte opportunità creative. Potremmo anche pensare a prodotti per lo styling che siano delicati sui capelli e rispettosi dell'ambiente. Vorrei che la nostra collaborazione promuovesse l'importanza di avere capelli sani e luminosi in modo naturale. Assolutamente. Marco. La salute dei capelli è importante per molte persone, quindi sarebbe meraviglioso offrire loro prodotti di alta qualità e naturali. Immagino anche workshop in cui insegniamo alle persone come prendersi cura dei loro capelli in modo sostenibile. Mi piace l'idea dei workshop, Laura. Potremmo condividere consigli pratici e insegnare tecniche per ottenere risultati fantastici con i nostri prodotti. Sarebbe una bella opportunità per connetterci con i nostri clienti e creare una community di persone che si prendono cura dei propri capelli. Esattamente. Marco. La connessione con la community è fondamentale per costruire un legame duraturo con i nostri clienti. Immagino anche la possibilità di organizzare eventi in cui celebriamo la bellezza naturale delle persone e promuoviamo l'autostima. Sì, Laura, l'autostima è importante e dovremmo incoraggiare le persone a sentirsi sicure di sé. Potremmo collaborare con un marchio di abbigliamento che promuove la diversità e l'accettazione di sé. Insieme, potremmo organizzare sfilate di moda inclusiva che celebrano la bellezza in tutte le sue forme. Mi piace molto l'idea, Marco. Organizzare sfilate di moda che mettono in risalto la diversità sarebbe un modo potente per promuovere il messaggio di accettazione e inclusione. Sarebbe meraviglioso vedere modelli di diverse età, dimensioni e background camminare sulla passerella. Sì, Laura, sarebbe un modo fantastico per mostrare al mondo che la bellezza si trova in ognuno di noi. Potremmo ispirare molte persone a sentirsi bene nella propria pelle e ad abbracciare la loro unicità. Assolutamente, Marco. Spero davvero che un giorno si possa realizzare la nostra collaborazione da sogno. Sarebbe un'esperienza straordinaria lavorare con i nostri brand preferiti per creare un impatto positivo sulla vita delle persone. Concordo pienamente, Laura. Continuiamo a sognare in grande e chissà, un giorno potremmo vedere i nostri sogni diventare realtà. Marco. Pensando alle nostre collaborazioni da sogno, mi viene in mente un'idea intrigante. Potremmo collaborare con un marchio di viaggi di lusso per creare esperienze uniche per i nostri clienti. Immagino pacchetti vacanza personalizzati, in cui le persone possono vivere esperienze di lusso e scoprire destinazioni mozzafiato. Mi piace molto l'idea, Laura. Sarebbe fantastico offrire ai nostri clienti un'esperienza indimenticabile, oltre ai nostri prodotti. Possiamo creare pacchetti che includono soggiorni in resort di lusso, tour esclusivi e attività emozionanti. Sarà un modo per far vivere loro momenti spettacoli, e creare ricordi duraturi. Esattamente. Marco. Possiamo anche pensare a partnership con brand di ristorazione di alta qualità. Immagino cene gourmet preparate da rinomati chef e degustazioni di prelibatezze culinarie. Sarebbe un'esperienza sensoriale unica per i nostri clienti. Mi hai fatto venire l'acquolina in bocca, Laura. Le esperienze gastronomiche di alto livello sono sempre apprezzate e potrebbero completare perfettamente il viaggio di lusso. Potremmo anche pensare a workshop culinari, in cui i partecipanti imparano a preparare piatti deliziosi con l'aiuto di chef professionisti. Assolutamente. Marco. I workshop culinari sarebbero divertenti e formativi. Le persone potrebbero portare a casa non solo bei ricordi, ma anche nuove competenze culinarie da mettere in pratica nella propria cucina. Sì, Laura, sarebbe un modo fantastico per coinvolgere i nostri clienti anche dopo il loro viaggio. Potremmo creare una community online in cui condividiamo ricette, consigli e storie di viaggio. Sarà un modo per mantenerci connessi e continuare a offrire valore ai nostri clienti. Mi piace molto l'idea della community online. Marco. Potremmo anche organizzare concorsi e eventi virtuali per coinvolgere attivamente i nostri clienti. Sarebbe un modo per far sentire loro parte di qualcosa di speciale e unico. Concordo, Laura. Coinvolgere i nostri clienti e creare un senso di appartenenza è fondamentale per il successo delle nostre collaborazioni. Dobbiamo assicurarci di offrire un'esperienza completa, che vada oltre il semplice prodotto. Esattamente, Marco. Dobbiamo pensare a come rendere ogni punto di contatto con i nostri clienti unico ed emozionante. Sono convinta che le nostre collaborazioni da sogno possono far sì che ciò accada. Sono completamente d'accordo, Laura. Continuiamo a lavorare duramente per realizzare le nostre idee e creare esperienze straordinarie per i nostri clienti. Continueremo a sognare in grande e a mettere in pratica le nostre visioni. Sono entusiasta di vedere cosa riserverà il futuro per le nostre collaborazioni da sogno. Per favore metti mi piace e iscriviti al canale. Ci aiuta davvero molto. Grazie. Dialogo 7. Esperienze memorabili di campeggio o escursioni. In questa conversazione, Marco e Sofia si scambiano le loro esperienze memorabili di campeggio o escursioni. Condividono le loro avventure all'aria aperta e discutono delle emozioni e dei momenti speciali vissuti durante queste esperienze. Ciao Sofia. Sai, ho avuto alcune esperienze di campeggio davvero memorabili nella mia vita. Mi chiedevo se anche tu hai avuto delle avventure all'aria aperta che ricordi con gioia. Ciao Marco. Assolutamente. Anche io ho avuto delle esperienze di campeggio indimenticabili. È incredibile quanto tempo trascorso nella natura possa creare ricordi speciali. Raccontami la tua esperienza più memorabile. Una delle mie esperienze più memorabili è stata quando ho fatto un'escursione in montagna con un gruppo di amici. Abbiamo camminato per ore, superando sentieri tortuosi e raggiungendo un picco panoramico. La vista mozzafiato che si apriva davanti a noi era semplicemente incredibile. Suona come un'avventura emozionante. Marco. Ho avuto un'esperienza simile quando ho fatto una camminata lungo un sentiero costiero. Camminare accanto all'oceano e vedere le scogliere e le onde che si infrangevano è stato un momento magico. Sì. Immagino che quella camminata costiera sia stata straordinaria. La natura ha un modo unico di regalarci paesaggi spettacolari. In quei momenti, ci sentiamo così piccoli e allo stesso tempo connessi al mondo. Esattamente. Marco. Mi sento così grata di poter vivere queste esperienze e di poter apprezzare la bellezza naturale intorno a noi. C'è qualcosa di speciale nell'immergersi completamente nella natura. Concordo pienamente. E non sono solo i panorami mozzafiato, ma anche le piccole cose che rendono queste esperienze memorabili. Come il suono del vento tra gli alberi o il tepore del fuoco di campo di notte. Assolutamente. Ricordo un'altra esperienza di campeggio in cui abbiamo fatto una grigliata sotto le stelle. C'era un senso di calma e serenità che pervadeva l'intero campeggio. Era davvero speciale. Sì. I momenti di condivisione attorno al fuoco o durante un pasto sono davvero preziosi. Rafforzano i legami tra le persone e creano ricordi duraturi. È un'esperienza che non si può replicare altrove. Hai ragione. Marco. È proprio l'esperienza di vivere all'aria aperta. Di superare sfide e di connettersi con la natura che rende queste avventure così indimenticabili. Mi sento sempre rinata dopo un'esperienza di campeggio. È meraviglioso sentire come il campeggio abbia un impatto così positivo su di te, Sofia. È proprio questo senso di rinascita e di riconnessione che ci spinge a cercare sempre nuove avventure nella natura. Assolutamente. Marco. Continuiamo a cercare nuove avventure. A scoprire luoghi nuovi e a creare ricordi speciali. La natura è lì fuori ad aspettarci. Pronta a regalarci esperienze indimenticabili. Sofia. Durante le mie esperienze di campeggio, ho anche affrontato alcune sfide interessanti. Ad esempio, ricordo un'escursione in cui abbiamo dovuto attraversare un fiume impetuoso su un ponte di corda. È stata un'esperienza emozionante, ma anche un po' spaventosa. Wow. Marco. Sembra davvero avventuroso. Anch'io ho avuto alcune sfide durante le mie escursioni. ricordo una volta in cui abbiamo dovuto affrontare un percorso roccioso e scivoloso sotto la pioggia. È stato un po' complicato. Ma alla fine siamo riusciti a superarlo. È interessante come queste sfide possano essere fonte di crescita personale. Ci mettono alla prova e ci fanno scoprire la nostra forza interiore. Anche se in quei momenti può sembrare difficile, alla fine siamo fieri di averlo superato. Assolutamente. Marco. Le sfide ci fanno superare i nostri limiti e ci insegnano che siamo più forti di quanto pensiamo. Mi rendo conto che anche nei momenti difficili, posso fare affidamento su me stessa e sul sostegno del gruppo. Hai perfettamente ragione, Sofia. Durante queste avventure, ci rendiamo conto dell'importanza della squadra. Il supporto reciproco e il senso di condivisione delle sfide, ci permettono di superare gli ostacoli e di creare legami ancora più forti. Sì. Il senso di comunità che si crea durante queste esperienze è davvero unico. Ricordo quando abbiamo montato la tenda insieme e cucinato i pasti sul fuoco. C'era un senso di cooperazione e solidarietà che mi ha riempito il cuore. È bello sentire che hai vissuto quel senso di comunità, Sofia. È un aspetto speciale delle avventure all'aperto. Mi viene in mente anche il momento in cui abbiamo raggiunto la vetta di una montagna insieme. C'era una gioia e una soddisfazione nel celebrare il nostro successo collettivo. Sì, Marco. Ho provato la stessa sensazione di gioia quando abbiamo raggiunto la vetta. Era come se tutti gli sforzi fossero stati ripagati e ci siamo sentiti così realizzati. È un momento che porterò sempre nel mio cuore. Mi fa piacere sentire che hai avuto un'esperienza simile, Sofia. Sono queste emozioni e momenti condivisi che rendono le avventure di campeggio così memorabili. Ogni volta che penso a quei momenti, mi riempio di gratitudine. Sono d'accordo, Marco. Sono grata per ogni esperienza di campeggio o escursione che ho avuto. Ogni avventura mi ha insegnato qualcosa di nuovo e mi ha regalato ricordi indelebili. Non vedo l'ora di scoprire nuovi luoghi e vivere nuove avventure all'aperto. Anche io non vedo l'ora, Sofia. Le avventure all'aperto sono un tesoro che possiamo continuare a scoprire. Abbiamo solo bisogno di un po' di coraggio e di aprire i nostri occhi e i nostri cuori alla bellezza della natura. Sì, Marco. Continuiamo a esplorare. A vivere esperienze straordinarie e a creare ricordi speciali. La natura ci aspetta. Pronta a sorprenderci e a regalarci avventure indimenticabili. Sofia. Quando penso alle mie esperienze di campeggio o escursioni, mi rendo conto di quanto abbiano influenzato la mia visione del mondo. Sento un profondo rispetto e una connessione più profonda con la natura. Lo capisco perfettamente. Marco. Anche per me. Queste avventure all'aperto mi hanno fatto apprezzare la bellezza e la fragilità del nostro pianeta. Mi sento chiamata a fare la mia parte per proteggere e preservare la natura. È meraviglioso sentire che condividiamo questa connessione con la natura, Sofia. Sento una sorta di responsabilità nei confronti dell'ambiente e mi impegno a vivere in armonia con la natura, riducendo la mia impronta ecologica. È fantastico sentire che hai adottato uno stile di vita sostenibile. Marco. Anche io cerco di fare piccoli cambiamenti nella mia vita quotidiana per ridurre l'impatto sull'ambiente. E' importante che ciascuno di noi faccia la sua parte, per quanto piccola possa sembrare. La somma di tante piccole azioni, può portare a un grande cambiamento. Spero che sempre più persone si rendano conto dell'importanza di preservare la natura. Sì. Marco. Spero davvero che la consapevolezza ambientale si diffonda sempre di più. Le nostre esperienze di campeggio o escursioni ci hanno aperto gli occhi sulla bellezza e sulla fragilità del mondo naturale. Dobbiamo proteggerlo per le generazioni future. Assolutamente, Sofia. Dobbiamo essere i custodi della natura, in modo che le future generazioni possano godere delle stesse meraviglie che abbiamo avuto la fortuna di sperimentare. La natura ci insegna umiltà e gratitudine. Sono d'accordo. Marco. La natura ci insegna molte lezioni preziose. Ci insegna l'importanza di rallentare. Di connetterci con noi stessi e con gli altri esseri viventi. Ci offre uno spazio per riflettere e trovare la pace interiore. Mi sento così grato per tutte le esperienze di campeggio e escursioni che ho avuto. Mi hanno arricchito come persona e mi hanno fatto sentire parte di qualcosa di più grande. Spero che tutti possano vivere queste esperienze e scoprire la bellezza della natura. Anch'io sono grata per ogni momento trascorso all'aperto. Marco. Sono esperienze che porto nel cuore e che mi ispirano a vivere una vita più consapevole e in sintonia con la natura. La bellezza e la serenità che ho sperimentato sono un dono che voglio condividere con gli altri. Sì, Sofia. Continuiamo a coltivare questa connessione con la natura, a vivere avventure all'aperto e a ispirare gli altri a fare lo stesso. Insieme possiamo fare la differenza e preservare la bellezza del nostro mondo. Sono felice di condividere questa visione con te, Marco. Continuiamo a essere ambasciatori della natura e ad apprezzare ogni momento trascorso all'aperto. La natura ci offre così tanto. Dobbiamo essere grati e impegnarci per proteggerla. Per favore metti mi piace e iscriviti al canale. Ci aiuta davvero molto. Grazie. Dialogo 8 Un sogno artistico da realizzare parte 1. Luca e Marta condividono le loro fantasie riguardo a collaborazioni con i loro artisti preferiti, sognando di lavorare insieme a loro in un progetto creativo. Ciao Marta. Ho un argomento interessante di cui vorrei parlarti. Ho sempre sognato di collaborare con un artista famoso. E tu? Hai mai pensato a un'opportunità del genere? Ciao Luca. Oh sì. Assolutamente. Ho sempre immaginato di lavorare con un artista che ammiro. Poter condividere la mia passione per l'arte e creare qualcosa di speciale insieme. Qual è l'artista con cui sogni di collaborare? Mi piacerebbe molto lavorare con Alessandro, un rinomato pittore contemporaneo. Adoro il suo stile unico e la sua capacità di trasmettere emozioni attraverso i suoi dipinti. Immagino di creare un'opera che unisca la mia passione per la scrittura con il suo talento artistico. Wow! Sarebbe un'esperienza incredibile. Immagino già l'intensità creativa che si potrebbe generare da una collaborazione del genere. E tu? Cosa ti piacerebbe realizzare insieme ad Alessandro? Mi piacerebbe creare un libro d'arte, in cui le sue opere abbiano un ruolo centrale nella narrazione. Potremmo combinare poesie e disegni per trasmettere un messaggio profondo agli spettatori. Sarebbe un modo unico per fondere la nostra creatività e creare qualcosa di davvero speciale. Mi piace molto l'idea. Luca? Un libro d'arte che unisca parole e immagini potrebbe essere davvero coinvolgente. Immagino che l'interazione tra la tua scrittura e i dipinti di Alessandro potrebbe generare un'esperienza emotiva unica per chi legge. Esattamente. Marta. Credo che la combinazione delle parole e delle immagini potrebbe trasportare il lettore in un mondo completamente nuovo. E tu? Con quale artista sogni di collaborare? Il mio artista preferito è Laura. Una talentuosa cantautrice. Mi piacerebbe tanto lavorare con lei per creare una canzone che parli di temi importanti e che trasmetta un messaggio di speranza e cambiamento. Che bello! La musica ha un potere incredibile di connettere le persone e di esprimere emozioni profonde. Sono sicuro che una collaborazione con Laura potrebbe dar vita a una canzone davvero significativa e coinvolgente. Sì. Sarebbe un modo meraviglioso per condividere le nostre idee e utilizzare la musica come mezzo per ispirare gli altri. Penso che il potere dell'arte risieda proprio nell'abilità di comunicare messaggi importanti. Concordo pienamente. Marta. Sognare di collaborare con i nostri artisti preferiti ci spinge a esplorare nuove sfide creative e a cercare di realizzare qualcosa di unico. Spero che un giorno possiamo rendere realtà questi sogni artistici. Sì. Marta. È fantastico sognare di lavorare con i nostri artisti preferiti. Continuando sulla nostra conversazione, mi chiedo come potremmo iniziare a realizzare il nostro sogno artistico. Hai ragione. Luca. Penso che il primo passo sia entrare in contatto con l'artista che ci interessa. Potremmo cercare informazioni sul suo lavoro e sui suoi contatti per proporre la nostra idea di collaborazione. Esatto. Dobbiamo fare delle ricerche approfondite per capire come contattare Alessandro. Potremmo inviare una lettera di presentazione in cui esprimiamo il nostro interesse ed escriviamo il progetto che abbiamo in mente. Mi sembra un'ottima idea. Inoltre, potremmo cercare di partecipare a mostre o eventi artistici in cui Alessandro è presente. Potrebbe essere un'occasione per conoscerlo di persona e parlare direttamente della nostra proposta. Sì, potrebbe essere un modo per metterci in evidenza e dimostrare il nostro impegno. Inoltre, dovremmo preparare un portfolio delle nostre opere o dei nostri scritti per mostrare il nostro stile e la nostra creatività. Assolutamente. Presentare un portfolio potrebbe darci l'opportunità di dimostrare il nostro talento e il nostro entusiasmo per il progetto. Dobbiamo assicurarci di mostrare la nostra passione e la nostra dedizione. Hai ragione, Marta. Dobbiamo trasmettere la nostra convinzione che questa collaborazione potrebbe essere una grande opportunità per entrambi. Inoltre, potremmo anche pensare a come finanziare il progetto, nel caso in cui sia necessario. È un punto importante. Luca. Potremmo cercare sponsor o finanziamenti attraverso concorsi o borse di studio nel campo dell'arte. Dobbiamo essere pronti a presentare un progetto solido e convincente per attirare l'attenzione. Esatto. Marta. Dobbiamo essere preparati e organizzati per affrontare questa sfida. Sono sicuro che con impegno e determinazione possiamo fare passi avanti verso il nostro sogno artistico. Sono d'accordo. Luca. Dobbiamo perseverare e non arrenderci facilmente. Il percorso potrebbe non essere semplice. Ma se crediamo in noi stessi e nella nostra visione, possiamo raggiungere grandi risultati. Assolutamente. Marta. Non dobbiamo perdere di vista il nostro obiettivo e continuiamo a lavorare duramente per realizzare questo sogno artistico. Spero che la nostra determinazione ci porti a un'incredibile collaborazione con i nostri artisti preferiti. Marta. Abbiamo discusso di come contattare l'artista e presentare il nostro progetto. Ora, dobbiamo anche pensare al processo di creazione e alle aspettative che abbiamo per questa collaborazione. Cosa ne pensi? Hai ragione. Luca. Dobbiamo avere un'idea chiara del tipo di lavoro che vogliamo realizzare insieme all'artista. Dovremmo fare delle ricerche sulle sue opere passate e cercare di capire il suo stile e le sue preferenze artistiche. Esatto. Marta. Conoscere il suo lavoro ci aiuterà a creare un progetto che si adatti alla sua estetica e che sia significativo per entrambi. Dobbiamo anche considerare il formato della nostra collaborazione, che potrebbe essere un dipinto, una scultura o persino una performance. Sì. Dovremmo essere aperti a diverse modalità espressive. Potremmo anche valutare la possibilità di integrare più forme d'arte, come la musica o la poesia, nel nostro progetto. Ciò potrebbe rendere la collaborazione ancora più ricca e interessante. Assolutamente. Marta. L'interdisciplinarietà potrebbe aggiungere un ulteriore livello di profondità e significato al nostro lavoro. Dobbiamo anche considerare la durata del progetto e stabilire un calendario realistico per il suo completamento. Hai ragione. Luca. Dobbiamo essere consapevoli delle tempistiche e dei tempi di lavoro dell'artista. Dovremmo anche tener conto dei vincoli logistici e organizzativi, come la disponibilità degli spazi di lavoro o la necessità di materiale artistico specifico. Esatto. Marta. La pianificazione è fondamentale per una collaborazione di successo. Dovremmo anche considerare come promuovere e condividere il nostro lavoro una volta completato. Potremmo organizzare mostre o eventi per far conoscere la nostra collaborazione al pubblico. Sì. Luca. La divulgazione del nostro lavoro è importante per far sì che possa essere apprezzato e condiviso. Potremmo utilizzare i social media o collaborare con gallerie d'arte per far conoscere la nostra collaborazione a un pubblico più ampio. È un'ottima idea, Marta. Dobbiamo sfruttare le opportunità di visibilità e connessione con altri artisti e appassionati. Inoltre, dobbiamo essere aperti alle critiche e ai feedback, che ci aiuteranno a crescere e migliorare nel nostro percorso artistico. Assolutamente. Luca. Il processo creativo è un percorso di apprendimento continuo e dobbiamo essere disposti ad accogliere nuove idee e prospettive. Dobbiamo anche ricordare di goderci il viaggio e l'esperienza di collaborare con il nostro artista preferito. Sì, Marta. Dobbiamo mantenere viva la passione e la gioia nel fare arte insieme. Spero che questa collaborazione possa portarci a scoprire nuove sfide e realizzazioni nel nostro percorso artistico. Anch'io lo spero. Luca. Non vedo l'ora di vedere il nostro sogno artistico prendere forma e diventare realtà. Con impegno e dedizione. Sono sicura che potremo creare qualcosa di veramente straordinario insieme al nostro artista preferito. Grazie mille per aver guardato il nostro video. Non dimenticarti di mettere mi piace e di iscriverti al canale. Grazie e a presto.